Ciao a tutti, innanzitutto io vorrei ringraziare l'azienda The Name Stamp per avermi permesso di provare alcuni dei suoi prodotti. Il marchio è nato nel 2020 e si pone come scopo quello di produrre dei timbri personalizzati per permettere soprattutto ai genitori di distinguere vari capi di abbigliamento, dato che l'inchiostro non sbiadisce da vestiti. Io ho scelto il loro stampo a forma di panda, personalizzato con il mio nome che è Arianna, è una carinissima emoji, delle etichette e due astucci. L'astuccio uno ha lo stampo del gattino nero e l'altro ha lo stampo di un gattino ma bianco. L'astuccio puoi tirarlo verso il basso per diventare un portavene oppure puoi tirarlo su come un astuccio per facilitare il trasporto. Puoi usare il mio codice ARISBEAUTY per avere uno sconto del 10% su tutti i prodotti presenti nel sito. Vi invito a visitare il sito e acquistare quello che più vi piace. Ciao a tutti. Innanzitutto io vorrei ringraziare l'azienda The Name Stampo per avermi permesso di provare alcuni dei suoi prodotti. Il marchio è nato nel 2020 e si pone come scopo quello di produrre dei timbri personalizzati per permettere soprattutto ai genitori di distinguere vari capi di abbigliamento, dato che l'inchiostro non sbiadisce da vestiti. Io ho scelto il loro stampo a forma di panda, personalizzato con il mio nome che è Arianna. E' una carinissima emoji. Delle etichette e due astucci. L'astuccio uno ha lo stampo del gattino nero e l'altro ha lo stampo di un gattino ma bianco. L'astuccio puoi tirarlo verso il basso per diventare un portavene oppure puoi tirarlo su come un astuccio per facilitare il trasporto. Puoi usare il mio codice ARISBEAUTY per avere uno sconto del 10% su tutti i prodotti presenti nel sito. Vi invito a visitare sì e acquistare quello che più vi piace. Ciao a tutti. Innanzitutto io vorrei ringraziare l'azienda The Name Stamp per avermi permesso di provare alcuni dei suoi prodotti. Il marchio è nato nel 2020 e si pone come scopo quello di produrre dei timbri personalizzati per permettere soprattutto ai genitori di distinguere vari capi di abbigliamento, dato che l'inchiostro non sbiadisce da vestiti. Io ho scelto il loro stampo a forma di panda, personalizzato con il mio nome che è Arianna. E' una carinissima emoji, delle etichette e due astucci. L'astuccio uno ha lo stampo del gattino nero e l'altro ha lo stampo di un gattino ma bianco. L'astuccio puoi tirarlo verso il basso per diventare un portavene oppure puoi tirarlo su come un astuccio per facilitare il trasporto. Puoi usare il mio codice ARISBEAUTY per avere uno sconto del 10% su tutti i prodotti presenti nel sito. Vi invito a visitare il sito e acquistare quello che più vi piace. Ciao, Biometabolica aiuta a perdere peso. Io ve lo consiglio. Chi vuole può andare anche in farmacia a prenderlo, ma se fate qui su WePup lo potete comprare direttamente a casa. Ciao a tutti. Innanzitutto, io vorrei ringraziare l'azienda TheNameStamp per avermi permesso di provare alcuni dei suoi prodotti. Il marchio è nato nel 2020 e si pone come scopo quello di produrre dei timbri personalizzati. Grazie a tutti.